ciao a tutti ben ritrovati nella mia cucina oggi vado a fare la pasta frolla al mascarpone allora come prima cosa metto 480 grammi di farina 120 grammi di burro e incominciamo a sciogliere e a impastare burro e farina rimettiamo la ciotola sulla bilancia e pesiamo 180 grammi di zucchero mettiamo un po di vaniglia io utilizzerò questa qui 2 uova un po di vani e 250 grammi di mascarpone e iniziamo ad impastare appena un po incorporate le uova dobbiamo utilizzare le mani e iniziamo un po di vani e iniziamo un po di vani ed ecco la pasta frolla al mascarpone questa la potete usare per fare i biscotti le crostate è molto buona facile e veloce se vi è piaciuta questa ricetta mettetevi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina scrivi un commento se ti fa piacere che io leggerò e ti risponderò non appena possibile e noi ci vediamo in una prossima ricettina ciao 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 ciao